Questo è il Bellagio che ha un lago, no, non ha uno specchio d'acqua o una piscina, ha un lago, no? Questo qua è un lago artificiale e ed ecco una bellezza locale. Buongiorno signora bellezza locale, lei dove è andata in vacanza? Sul lago di Bellagio? E i quali della luce sanno la radio, perché a Bellagio si usa così, vero ste? Oh, that feels so good. Siamo all'MGM grande dove alloggiamo noi. E quello lì è un leone vero. Eh, è un 1.05, fai un ingrandimento, tira la destra. Eh, ma si vede tutto parco. Comunque l'ho preso. L'ho preso, stai tranquilla. Comunque questo qua è l'MGM grande. Dove stiamo noi? Oh, la schiena è aperta. Da stamattina alle 6 che siamo in gira. I suoi set l'hanno fatto finta, perché a sé perché questo non rugisce, allora hanno fatto anche il rugito del leone finto. Guarda qua c'è il leoncino, ma quelli li stanno lì, hai capito? Ma poveretti, la protezione è arrivata? Gli danno a mangiare, sono lì, sono al fresco, in un albergo, c'hanno i leoni. Grazie.